ciao a tutti buongiorno buongiorno anche da lui da pops mio super gattino sto rilassando un po qua con lui volevo farti un volevo farvi un piccolo un piccolo recap un piccolo video prima di andare ai consigli di classe per vedere un po di statistiche di queste prove scritte e allora dai dati riferiti praticamente dalle prove di mercoledì giovedì e venerdì per infanzia e primarie l'ottanta per cento dei candidati ha superato la prova per le secondarie per il momento l'ottantasette per cento ovviamente mancano ancora oggi e domani dati di oggi e della prova di domani mattina pomeriggio però bene o male insomma lo status è questo qua se volete un mio commento personale mi sembra una situazione veramente strana visto che la prova scritta dei concorsi sempre stato un qualcosa di abbastanza raggiungibile e quindi le casistiche secondo me potrebbero essere le seguenti o ci saranno molti bucciati alla prova orale o ci sarà molto assenteismo alla prova orale comunque anche per quanto riguarda la prova scritta un candidato su quattro non si è presentato per quanto riguarda le secondarie questi sono dei dati anche un po insomma non dico brutti però siccome questa percentuale di assenteismo è stata molto più elevata al sud rispetto che al nord ci fa capire anche che sono state assegnate delle sedi lontane spostarsi comunque al sud da una regione all'altra o da una provincia lontana o un'altra se uno di brindisi viene mandato per dirvi a bari cioè non è così semplice ok non è semplice al nord e neanche al sud però al sud so che insomma le comunicazioni sono sicuramente più lente e è più difficile raggiungere posti lontani quindi la prima opzione sarebbe o che all'orale siano più severi e quindi vengano bocciate più persone oppure che guarderanno principalmente la valutazione dei titoli per quanto mi riguarda io titoli non ho niente perché ho due certificazioni di lingua ma sono livello b2 e non mi servono a niente cioè mi serviranno per le gps ma non mi serviranno per il concorso perché per il concorso bisogna avere almeno una certificazione c1 quindi o inglese aia sta incazzando si sta molto arrabbiando questo gattino si dice vuol giocare amore ha voglia di giocare che è stato tutta mattina da solo che ho lezione quindi e quindi vi dico bisogna avere almeno una certificazione c1 di una lingua straniera oppure il master oppure un'annualità di servizio per avere un'annualità di servizio bisogna aver fatto almeno 180 giorni quindi io ho fatto tantissimi giorni a scuola quest'anno l'anno scorso oddio quest'anno non tanti in realtà però non sono mai arrivata 180 quindi purtroppo io nella valutazione dei titoli sarò molto penalizzata per quello insomma conto di fare una prova orale molto bella mi impegnerò al massimo come mi sono impegnata per lo scritto raggiunto comunque un punteggio di 88 su 100 nello scritto che insomma è un buon punteggio e cercherò di fare lo stesso con con l'orale che cosa consigliavi dipende molto dalla materia per cui concorrete per la 28 per quanto riguarda la matematica io non è che non la studierò ma si tratta comunque grazie di oscurarmi tutto amore scusate diciamo che non è che non la voglio studiare però andare a studiare matematica cioè devo andarmi a ripassare che cosa le questioni le proporzioni i polinomi cioè sono cose che comunque io so già fare cioè io non penso che quel giorno lì la commissione chieda alla lavagna risolvimi la seguente espressione cioè e anche se me lo chiedesse la faccio sul momento cioè non mi metto a ripassare quelle cose lì forse mi ripasserò qualcosa di geometria ecco diciamo le formule geometriche le 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 formule per determinare l'area il perimetro di poligoni poppy dai l'area il perimetro di poligoni i solidi magari che sono quelli che mi ricordo un po peggio però per quanto riguarda parte di matematica non penso studierò niente perché secondo me non faremo neanche tanto in tempo a studiare per quanto riguarda la prova di scienze visto che oltre che la 28 io farò anche la 50 la studio una volta solamente e vale per entrambe le classi di concorso il programma di scienza è vastissimo io adesso pensavo dalla prossima settimana questa settimana la volevo prendere un po come detox ancora dalla prova dalla prova scritta perché comunque voglio continuare un po a fare le mie ripetizioni voglio continuare insomma a fare sto comunque insegnando in una scuola quindi sono comunque parecchio impegnata quindi volevo proprio farmi un po un detox di tutto questo e poi dal 25 iniziare un po dalla parte di biologia che è quella che sinceramente mi piace di più che io sono laureata in biotecnologie quindi però ragazzi c'è talmente vasto il programma che darò una letta cioè io non farò in tempo a ripassare tutto per quanto riguarda la chimica e la fisica io sono molto in difficoltà cioè la chimica neanche tanto se però se mi parlate magari di argomenti generici li so anche dire la fisica non ne parliamo cioè sulla fisica proprio se mi capita una lezione simulata della fisica proprio non non ci siamo ecco ecco forse l'unica cosa che studierò per bene sarà la fisica ecco qualche legge magari le cose principali le forze il movimento quelle cosine lì ricordo che la prova io parlo delle mie classi di concorso perché le classi di concorso della scuola secondaria che non hanno la prova pratica per esempio chi concorre per la 22 italiano storia e geografia la prova orale dura 30 minuti e basta per quanto riguarda la 28 e anche la 50 ci sarà una prova orale di 45 minuti e poi una prova pratica io addirittura avevo letto non so se ho letto bene ci sono dei pareri discrepanti su questa cosa che la prova pratica di a 28 è un'esperienza di laboratorio sul quale poi bisognerà fare una relazione in tre ore per la 50 è un qualcosa di otto ore mi sembrano tempi veramente lunghissimi anche perché cioè come fai a trovare otto ore per persona cioè impossibile quindi secondo me semplicemente si estrarà questa traccia di laboratorio sulla quale insomma dovrei fare vedere qualcosa sul momento oppure ti daranno tot di tempo e poi fare una piccola relazione ecco io questa è una cosa su cui mi devo ancora accertare io ho visto alcuni esempi di prove pratiche di a 28 dove per esempio ti danno un bicchiere dell'acqua e dell'olio cosa devi fare versare l'acqua nel bicchiere poi ci versi l'olio e devi spiegare il fatto del perché l'olio non sia solubile in acqua e quindi ricollegarti al principio di solubilità di liposolubilità eccetera eccetera quindi sinceramente posso dirvi non scusate che devo tenere l'orario d'occhio l'orario perché se no faccio tardi il consiglio di classe quindi non saprei veramente che cosa consigliarvi ognuno ha i propri metodi quindi non è che il metodo che utilizzerò io sarà il medesimo che vorrete utilizzare voi capire un po magari se riusciamo nelle prossime giornate vorrei fare una come si dice una diretta sulla lezione simulata perché secondo me molti di voi non sanno fare ma a me compresa è ma non sanno io almeno so cos'è secondo me molti di voi non sanno bene che cosa è una lezione simulata non è che una persona scusate mi dà un argomento e voi dovete esporre a quell'argomento è una cosa molto più complicata ci saranno l'unibes nella classe alunni dsa ci saranno l'unni stranieri diciamo che insomma non sarà qualcosa di facile nemmeno per me detto questo io non ho nient'altro da aggiungere faccio l'in bocca al lupo a tutti quelli che hanno la prova in questi in questi giorni quindi oggi pomeriggio e anche domani secondo me qualche dato in più riusciremo averlo prossimamente spero che a breve l'emilia romagna io concorro per l'emilia romagna estragga diciamo la lettera il prima possibile perché nel momento in cui hanno estratto la lettera si capirà un po di più per quanto riguarda le date purtroppo ho visto nel sito del mio ufficio scolastico territoriale che devono ancora alcune commissioni devono ancora farle quindi secondo me l'emilia romagna come regione non è messa ancora benissimo a livello di commissioni spero vivamente che sarà intorno a metà aprile o comunque entro il mese di aprile non andrà a finire maggio spero che non estraggano una lettera lontana dalla mia perché vi dico la verità io ho il cognome con la b vorrei essere veramente se non la prima nella prima gittata perché ho visto anche per l'orale se io fossi stata per esempio il 15 o il 14 che era già io l'ho fatto il 13 al turno della mattina quindi era proprio il primo turno in assoluto per la secondaria io sono una persona non ansiosa però che si fa molto condizionare da quello che dicono i social da quello che dice la gente e quindi mi avrebbero messo tanta di quell'agitazione che preferisco estraggano la b o al massimo la di modo che sono in uno dei due primi turni ecco quindi teniamoci aggiornate quindi aspettiamo magari domani domani sera che abbiamo tutti i risultati di tutto con tutte le percentuali ci rivediamo ne riparliamo e direi che ci vedremo anche per una diretta dove vi spiego un po che cosa si tratta per unità didattica di apprendimento quindi UDA e per lezioni simulata non sono la stessa cosa sono strettamente correlate sicuramente l'UDA è legata alla competenza quindi conoscenze più abilità sicuramente è necessaria una piccola lezione dove dobbiamo capire qual è la differenza tra UDA e lezioni simulata e come esse si possono concatenare per poi andare a fare un orale degno di nota ricordo che l'orale verterà anche sulle competenze informatiche ma non informatiche come le domande che avete avuto nella prova scritta ma proprio magari utilizzare qualche programma informatico nella vostra presentazione per esempio insegnando matematica un'applicazione che mi viene in mente potrebbe essere GeoGebra ok oppure fare un bel quiz di scienze insomma cercare di essere un po originali infine le ultime domande possono essere in lingua inglese no possono sicuramente a sentire altri candidati del 2020 hanno fatto delle domande molto semplici hanno chiesto di raccontargli la routine che cosa hanno fatto l'weekend scorso che cosa che cosa hanno fatto durante le loro vacanze estive però con una padronanza del linguaggio livello B2 quindi insomma cerchiamo di allenarci con l'inglese parlate in questi giorni in casa in inglese magari guardatevi dei film su netflix in inglese ma soprattutto cercate di parlare perché questa è la cosa che a molti durante l'orale potrebbe veramente fregare magari fanno un orale stupendo poi a livello di inglese non sanno niente o fanno fatica o si intartagliano si impapinano ed ecco che magari il vostro voto da 94 potrebbe scendere anche a 75 o 82 insomma quindi cerchiamo di passo a passo di soddisfare tutti questi criteri per arrivare ad un punteggio se non altissimo però almeno abbastanza elevato va bene vi saluto che vado al mio consiglio di classe ci vediamo presto mi raccomando lasciatemi i vostri commenti se avete delle domande qualsiasi domande su prova orale per queste due classi di concorso io per le altre non è che non vi voglio aiutare cioè potete farmele anche per le altre basta che siano domande generiche cioè non chiedetemi ma per filosofia se devo parlare di kant no cioè io rispondo alle vostre domande in merito alla parte generica del concorso scuola prova orale quindi se avete qualsiasi domanda fatemela e vi risponderò o tramite relo tramite stories oppure direttamente qua nei commenti di youtube del mio canale va bene una buona una buona giornata vi saluto e un abbraccio a tutti